Cari appassionati dei Il Paradiso delle Signore Otto, siete pronti a immergervi nelle profondità di una trama che si tinge di mistero, affari loschi e decisioni azzardate? Questa settimana ci troviamo di fronte a una vicenda che sembra diritta come un gomitolo di lana, ma che in realtà nasconde nodi e intricati inganni pronti a sconvolgere gli equilibri. Entriamo nel vivo di questa avvincente storia. In una svolta di eventi che nessuno avrebbe potuto prevedere, Marcello Barbieri si trova a un bivio che mette a rischio non solo il suo futuro, ma anche il benessere di coloro che gli stanno a cuore. Questo viaggio in Germania, intrapreso con speranze di chiarezza, si trasformerà nella sua più grande prova. E se ti dicessi che ogni scelta ha il potere di distruggere o costruire il futuro? Resta con noi per scoprire come una semplice firma possa nascondere dietro di sé un abisso di conseguenze. Prima di tuffarci in questa avventura, ricordati di premere il pulsante di iscrizione e attivare la campanella delle notifiche. In questo modo non perderai mai le incredibili storie che abbiamo in serbo per te. Marcello Barbieri, con il cuore carico di speranze e la mente annebbiata dai dubbi, si imbarca in un viaggio verso la Germania, determinato a scoprire la verità dietro le lusinghe di Hofer, un imprenditore che con la sua facciata carismatica cela oscuri segreti nonché complice del commendatore in questa trappola. Questa missione di Marcello, nata da un misto d'intuito e disperata ricerca di conferme, si rivela però un percorso tortuoso, un labirinto senza uscita. Tornato a Milano, con le spalle gravate da un fardello di incertezze, Marcello si ritrova davanti a una scelta cruciale. Il suo istinto lo avverte dei pericoli, ma le prove concrete sembrano sfuggirgli come sabbia tra le dita. L'affare con Hofer è ormai alle porte, pronto a essere sigillato con una firma che potrebbe segnare la fine di tutto ciò che Marcello ha costruito con fatica e dedizione, senza contare il coinvolgimento della contessa di Santerasmo, Adelaide. Eppure, nonostante i dubbi che tormentano le sue notti, Marcello si convince che andare avanti sia l'unico cammino possibile. Questa decisione, presa tra le mura di una Milano che non perdona, potrebbe però costargli caro, catapultandolo in un gioco pericoloso orchestrato da Hofer e dal suo complice, Umberto Guarnieri. Un gioco dove il premio finale è molto più di una somma di denaro è il potere e il rispetto nella città che Marcello chiama casa. E ora, ti chiedo, Marcello sta facendo la scelta giusta? O c'è ancora tempo per invertire la rotta prima che sia troppo tardi? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto. Se questa storia ti ha catturato tanto quanto ha catturato noi, lascia un like, iscriviti al canale e supporta la verità che la TV spesso tace. Il tuo sostegno è essenziale per portare alla luce storie che meritano di essere raccontate. Mentre Marcello si avvicina al momento della verità, la tensione si taglia con il coltello. Ogni passo che fa lo avvicina sempre di più alla rivelazione di un inganno che potrebbe non solo annientare le sue aspirazioni ma anche distruggere le relazioni più preziose della sua vita. Riuscirà Marcello a vedere attraverso la nebbia di menzogne prima che sia troppo tardi? Solo il tempo potrà svelarlo. Ma una cosa è certa. Al paradiso delle Signore Otto, niente è come sembra. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo!